Articolazione del ginocchio sotto i riflettori nella quarta puntata di Star Bene. La trasmissione di Tele Libertà in onda ogni giovedì. A parlarne, al microfono della giornalista Marzia Foletti, sono stati l'ortopedico Giuseppe Calafiore e il fisioterapista e osteopata Paolo Fermi. Il ginocchio è una delle articolazioni più importanti del nostro corpo perché permettono a tutti di camminare, correre, di ambulare normalmente, poter fare le normali funzioni quotidiane. Perché io dico sempre che è una di quelle articolazioni che non si può non muovere. La spalla fa male, uno attacca il braccio al collo, mentre purtroppo quando si hanno problemi dell'articolazione dell'arte inferiore diventa tutto molto più problematico, diventa tutto molto più difficile. Il fisioterapista è una figura che negli anni si è modificata, proprio dal punto di vista del profilo, quindi della formazione che il fisioterapista ha ricevuto durante i tre anni di laurea. Il fisioterapista deve essere in grado di fare una prima valutazione che a tutti gli effetti è una diagnosi fisioterapica differenziale, quindi essere in grado di valutare e di escludere la possibilità che in quel momento il problema che il paziente lamenta non sia di competenza sua o di competenza appunto dell'ortopedico. dopodiché una volta fatto una sua valutazione iniziale capire e di conseguenza consigliare al paziente quale strada percorrere.